benvenuti benvenuti cari amici siamo inviti a questo nuovo video oggi andiamo parlando di terra luna classic perché ci sono importantissimi aggiornamenti per cui iniziamo subito prezzo in questo momento di 30.500 con più bel 8 per cento in ultime 24 ore allo stesso modo abbiamo un sensibile aumento anche per quanto riguarda la market cap che raggiunge quasi 1,9 miliardi volume insensibile aumento con più 40 punto 59 per cento con totale di 832 milioni andiamo a dare anche quelli che naturalmente sono i principali exchange nei quali luna viene tradato soprattutto la coppia lung su boost registra 340 milioni su binance ora veniamo al clou perché ci sono veramente ok di aggiornamenti secondo me scoppiettanti dovrebbe essere lanciato il reb station wallet ok quindi questa estensione sarà disponibile anche per chrome questo ci ha detto edward kim principale sviluppatore del progetto lung quindi un qualcosa davvero di pazzesco è stato lanciato anche un marketplace sostanzialmente dove viene venduto il merchandise da parte dei terra rivers quindi chi volesse ok fornire sostentamento al bar di luna può anche andare acquistare all'interno di questo shop vedete qui rebelgearshop.com vari prodotti ma soprattutto ora vorrei concentrarmi su questo personaggio che potrebbe avere delle forte ok diciamo influenze all'interno del progetto viene definito seo 44 e lui afferma di aver essere andato lina sostanzialmente su lunghe aver venduto tutti i suoi ethereum tra l'altro lui afferma che lunghe potrebbe proprio passare tv non per quanto riguarda la capitalizzazione di mercato per cui perché afferma questo perché afferma che lunghe sarà l'unica block chain decentralizzata esistente abbiamo visto più volte come uno dei problemi principali tv non sembra proprio la poca decentralizzazione e lunghe dopo diciamo il crollo potrebbe essere una di quelle poche coin più decentralizzate per questo il buon si ho 44 sembra aver scelto lunghe ora facciamo giusto così un piccolo ragionamento che cosa significherebbe arrivare in posizione 2 su quel market cap 180 x potete capire che ma di chi ha investito oggi che ne so mille dollari potrebbe ritrovarsene 80 mila ad oggi fantascienza però questo è quello che afferma si ho 44 è bello vedere anche quelle che sono le varie idee dei vari personaggi e si dice che lunghe barna addirittura potrebbe già partire da oggi o domani quindi secondo me vedremo una fortissima volatilità su terra luna abbiamo visto e come i volumi sono sensibilmente aumentate aggiornato di anno col più 40 per cento quindi ottimo per i trader ok quindi oggi dovrò stare a casa rintanato e andare a vedere dare varie resistenze supporti per scalpare un po di lunghe penso sarà una bella giornata per questo dopodiché andiamo a vedere la proposta ok che è stata lanciata e approvata cioè la 47 93 addirittura col 99 per cento di sì e andrà a obbligare ok tutti i checks quindi sembrerebbe anche binance al bar del 1.2 per cento vedremo in futuro se sarà così però perché proprio binance potrebbe anch'esso presto effettuare il bar al 1.2 per cento anche non solo su depositi prelievi utilizzando la block chain di luna ma anche diciamo sui tre di luna perché ai tempi non so se vi ricordate il crash ma il buon cz disse queste testuali parole disse noi faremo di tutto che per supportare la comunità di tra luna ci dispiace tantissimo e qual è il modo per andare a supportare in questo momento la comunità di tra luna ovviamente andare a provare il bar quindi vedremo ok se effettivamente il buon cz farà tutto questo addirittura per l'appunto diceva che non servono che i fork non servono i minting questo è un creano valore ma bisogna continuare a lavorare sul progetto quindi l'unica soluzione l'ha detto anche lui buying back burning das bisogna comprare e bisogna effettuare il ban quindi chi si ricorda queste testuali parole sembra o che implicare che cz andrà a barnare lung quindi oggi giornata di oggi o giornata di domani potrebbe veramente essere scopietante per luna tra l'altro che cosa vi segnalo che abbiamo raggiunto i 4 miliardi di barn però attenzione perché si inizia a barnare tutti gli exchange questi quattro miliardi saranno sostanzialmente nulla cosmico in futuro ad oggi rappresentano il 0,06 per cento a totale supply però in futuro potrebbero diventare molto ma molto di più andiamo a vedere quella calculation di lung in questo momento siamo a 30.160 e io stavo andando ad analizzare sul daily ok questo momento in cui registro sono le 6.35 vedrete il video successivamente perché sostanzialmente ultimamente mi sveglio molto presto e poi torno a dormire se riesco a dormire però a parte questo questa breve parentesi andiamo a vedere che cosa sta avvenendo in questo momento allora su one hour secondo me è perfetto per vedere supporti e resistenze che cosa osservo osservo questa resistenza a 32.327 è stata addirittura 1 2 3 4 5 6 volte ok quindi già questo è un segnale molto importante ora che cosa mi piacerebbe vedere allora su one hour siamo a 50 abbiamo un primo supporto sui 28 e 7 ok che potremmo andare a prendere che secondo me andranno a prendere quasi sicuramente non parliamo idea implicherebbe un meno 5 79 per cento ora cosa avrebbe sull'rsi un movimento di questo tipo suppongo sui 40 ok così ad occhio peggiori ipotesi secondo me ad oggi che torniamo a 26 quindi sembra essere confermato un primo supporto direi praticamente certamente a 28 9 è un secondo supporto a 26 7 quelli 24 momentaneamente lo metterei via perché implicherebbe veramente un iper venduto molto molto marcato mi sembra che lunga stia pian pianino pian pianino scusate prendendo posizioni nei confronti dei dei su prezzo ok quindi sta andando a scalare sostanzialmente quindi buon buon segnale per lunga poi andiamo a vederlo sul quarto d'ora penso su quarto d'ora si veda molto bene un potenziale scarico proprio sui 28 9 che potrebbe implicare una buona buy zone che almeno sul quarto d'ora e andremo a vedere ovviamente rimane anche valido il supporto a 26.73 sul one hour questa rimane media poi giornaliero che cosa abbiamo giornaliero c'è spazio ok ribasso e peggiori ipotesi ad oggi secondo me sono i 24 perché cosa vediamo vediamo che sostanzialmente stiamo assistendo a lateralità ok però con minimi crescenti quindi attenzione perché secondo me si sta andando a formare comunque una bella struttura abbiamo ancora questa resistenza ok 50 periodi che un po diciamo ci sta facendo qualche problema però abbiamo il supporto a resistenza a 100 periodi scusate abbiamo il supporto dei dei 100 periodi quindi questo potrebbe essere molto molto interessante per luna tra l'altro supporto 100 periodi che proprio registra i 24.000 per cui attenzione perché rimane sempre valida l'ipotesi di 24.000 anche se in questo momento a livello probabilistico molto meno rispetto ad esempio a ieri andiamo a vedere anche bitcoin perché ovviamente tanto dipenderà bitcoin in questo momento prezzo di 19.372 dollari anche qui vediamo resistenza sostanzialmente la media 200 ci sta facendo la resistenza anche la media 100 abbiamo il supporto è la media 50 ora secondo me giornata odierna bitcoin almeno sull'hour va un po' a scaricare questo è un po' la media ma soprattutto bisognerebbe andarlo a vedere sul daily sul daily c'è ancora spazio a me non piace assolutamente la struttura di bitcoin quindi attenzione abbiamo visto come più lungo più volte l'un che si è decorrelato ok da bitcoin però sostanzialmente io quello che vorrei ribadire è fate molta 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 attenzione soprattutto sulle altcoin in generale in questo momento io mi tengo fuori lo dico e ribadisco poi dove può arrivare bitcoin andiamo a vedere la struttura che stanno andando a fare allora qui avevamo un settimanale rialzista ok e ora sostanzialmente stiamo facendo sette giorni ok quindi potremmo chiudere oggi questo settimanale ribassista sì ok però potremmo chiuderlo sostanzialmente con una bella dip se andiamo chiudere effettivamente potremmo anche chiudere sui 30 perché 6 settembre avevamo chiuso proprio su su un rsi a 30 successivamente skyrockets chiusura settimanale e se effettivamente questo settimanale ribassista potremmo chiudere proprio sui 30 quindi oggi potrebbe essere anche una giornata negativa ok per bitcoin bar domani perché perché rivela una notizia di power quindi attenzione attenzione a me non piace assolutamente la situazione per il momento mi tengo fuori anche la cripto del market capo guardate qui potremmo andare a chiudere r6 a 30 più che certo secondo me siamo a 900 miliardi e potenzialmente gli 855 miliardi sono vicini questa assolutamente in una media infine andiamo a vedere al coindex in questo momento segna 61 quindi siamo sempre molto alti attenzione se bitcoin viene ancora giù come probabilmente avrà le altcoin subiranno ancora grossi perdite per cui diciamo il piccolo rimbalzino che abbiamo avuto nelle giornate ieri e così un rimbalzino dovuto al rimbalzo di bitcoin ok però state molto ma molto attenti sulle altcoin e per cui se vi è piaciuto questo video ti ricordo di di suggerire il like iscrivetevi al canale e ci vediamo presto